Una campagna elettorale che stiamo volgendo al termine, lunga e brutta. Lunga e brutta perché i nostri avversari in questi mesi ci hanno raffigurato quale può essere il trentino dei prossimi anni fatto di slogan, di paure, di liste di buoni e di cattivi. Allora noi vogliamo riaffermare con forza e io sono contento di poterlo fare con Bruno Tabace che oggi la politica non può essere fatta semplicemente di due posizioni. Il nostro paese non può essere governato da due partiti. In mezzo a questi due partiti c'è uno spazio di valori, di riferimenti, di storia, di sensibilità che non possono essere riconducibili a due sole bandiera. Per questo in Trentino molti di noi hanno fatto la scelta, in tanti abbiamo fatto la scelta, come Civica Margherita, partito territoriale nato qua dieci anni fa. Abbiamo fatto la scelta di non aderire al Partito Democratico e di fare qualcosa di nuovo, che è l'Unione per il Trentino. L'Unione per il Trentino ha bello in alto lo stemma della Margherita, c'è questa idea che non si può fare politica prescindendo dalla territorialità e ha nella parte bassa il nome di Lorenzo dell'Ai. Ha dimostrazione che la politica è fatta anche dell'orgoglio di aver ben governato, di buona amministrazione, di saper anteporre le regole ai diritti e la responsabilità alle risorse. Questo è il nostro modo di intendere l'autonomia.